Noi abbiamo avviato il procedimento insieme alla commissione toponomastica per effettuare una ricognizione di queste strade, di queste piazze e poi con i tempi ovviamente più rapidamente possibile inizieremo la sostituzione. Stiamo scegliendo esattamente a chi dedicarle, sono parecchie le persone. Tra l'altro voglio rassicurare tutti i cittadini che comunque l'amministrazione si farà carico di tutte le attività relative alla modifica della denominazione nel più breve tempo possibile per evitare disagi chiaramente a tutti. Questa è nostra cura e premura, rassicurare tutte le persone che comunque saranno interessate da questo cambio di denominazione.